Ciao a tutti e benvenuti su Magist of Lotus Allora, prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di commentare con le vostre opinioni di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e cosa molto molto importante abbiamo iniziato a fare tante live su Twitch quindi venite a seguirci quando potete, quando vi va, se vi interessa l'argomento però soprattutto iscrivetevi anche lì, è molto importante perché abbiamo poche iscrizioni e più cresciamo e più possiamo portare contenuti di qualità più alta quindi seguiteci anche lì, iscrivetevi, fateci questo favore, siete veramente dei grandi però vi chiediamo questo ennesimo favore, in compenso vi offriamo una marea di contenuti di Magic e allora, oggi parliamo di Arena, di Alchemy, nuovo formato uno standard con gli steroidi quindi un po' allargato e ci sono stati questi due eventi del Decathlon ce ne saranno 10 totali e 10 formati diversi se riesci a fare 7 vittorie, conquisti il token l'evento non è disponibile tanti giorni perché sono 3 giorni se non sbaglio e quindi hai 72 ore 72 ore per fare 7 vittorie questa cosa è molto figa però oggettivamente per chi ha poco tempo è un po' un casino infatti io questo weekend sono riuscito a giocare e sono riuscito ad acquisirli tutte e due con un po' di fortuna però non è semplice e tra l'altro ho visto i formati che bisognerà giocare più avanti nei prossimi giorni in questo Decathlon event e sono formati un po' alcuni un po' al limite che io non ho mai provato, tipo Singleton non l'ho mai provato quindi sarà una sfida anche Alchemy non l'avevo mai provato ho preso una lista su internet che non mi è piaciuta, che ho cambiato che adesso vi farò vedere seguitici stasera perché ci sarà Isma in live per provare a vincere Sealed io sono riuscito a prenderli tutti e due Isma ha preso l'Alchemy ieri e sta provando a prendere Sealed quindi supportatelo perché ha bisogno di voi e... andiamo a vedere il deck allora il deck è un RB Draghi mazzo molto molto divertente molto molto bello ve lo consiglio caldamente a me è piaciuto tantissimo la lista che però avevo preso inizialmente era veramente brutta ma veramente veramente brutta ho fatto un po' di amichevoli e un tentativo se non sbaglio ed è andato malissimo ma il deck era proprio disfunzionale al massimo sono consapevole che queste liste qua di Draghi sono sempre un po' delicate però quello era montato male quindi ho pensato di reinventarlo vi faccio vedere come l'ho montato allora le terre le terre, terre, terre sono 4, 8, 11, 15, 17 le terre che non sono modalie tra cui spiccano la den che è fortissima un po' antisinergica col piano infatti si può anche tagliare e giocarne solo una perché è un mazzo che comunque vuole andare stappato dopo quindi è l'ennesima terra che potrebbe entrare tappata però mi sto sentendo di giocarne due ripeto potreste giocarne solo una anche la nera non è da sottovalutare ma deve avere un senso nel formato nel senso ci deve essere qualcosa da esiliare nei cimiteri di importante perché quella nera fa quello le altre sono terre normalissime allora poi abbiamo due malachi e rebirt a costo 1 scegliamo una creatura se quella creatura sta per morire in questo turno torna in campo tappata perdiamo due vite dall'altra parte è una terra nera che ci dà mano nero scusate è carta fortissima in un mazzo draghi che fa delle minacce che costano tanto noi vogliamo sempre salvare la nostra minaccia a costo solo di un mana è come se noi stessimo facendo un'altra creatura che costa 4-5 e tra l'altro rifacciamo i coming to play quindi per esempio con il town che adesso andremo a vedere rifaremo il suo coming to play che è molto 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 forte quindi rebirt 2x incredibile addirittura della rebirt sto pensando se togliere se tolgo la den potrei mettere una rebirt togliere una palude e mettere una montagna potrei fare questo cambiamento qua perché la rebirt la vuoi quasi sempre in mano poi il mazzo salta praticamente sempre drop a 1 perché hai solo la spike field e quindi in realtà non ti pesa troppo fare una terra tappata di primo quindi una rebirt fortissima veramente fortissima poi abbiamo 4 spike field questa anche è ottima perché ci sono diverse minacce 1 dietro in questo formato diverse creature nei mazzi aggressivi che hanno 1 dietro quindi ottima carta e come per questa farla tappata di primo non è uno svantaggio tanto non abbiamo drop a 1 però questa è giusto giocare 4 perché appunto non avendo i drop a 1 ci serve per coprire questo vuoto quando partiamo per secondo contro i mazzi aggressivi poi abbiamo 2 infernal grasp che per adesso ne sto tenendo 2 per me è giusto giocarli ovviamente vanno in antisinergia con chandra che andremo a vedere dopo però sono fortissimi di soggiorno a creatura perdiamo 2 vite carta veramente top in questo formato poi abbiamo una braid solo forse è giusto aumentarli c'è un mazzo controllo tra virgolette che gioca un artefatto molto importante che è quello che ci dà 2 mana ci fa cercare una carta dell'archivio e quella spaccarla non è male perché è vero che ha già fatto il coming to play però l'avversario la strategia di quel deck è anche rimbalzare quella carta quindi può essere molto importante distruggerla per togliergli sia 2 mana che questa sinergia poi abbiamo dragon's fire carta forte 3 danni a creatura blaze walker oppure possiamo rivelare o scegliere un drago e in base al power di quella carta facciamo i danni quindi carta forte il fairsome whelp fa fortissimo a costo 2 alla fine del turno ci sconta i draghi per sempre che abbiamo in mano di 1 1-1 volare fortissimo perché basta avere anche solo un drop a 4 drago in mano anche solo 1 e faremo poi quel drago di terzo quindi ci sconta fortissimo l'orb of dragonkind anche questa è OP e non la giocava la lista non so perché ci accelera per i draghi solo per i draghi però tappando 1 e sacrificandola possiamo guardare le prime 7 rivelare un drago e prenderlo in mano quindi noi comunque all'inizio ci accelera e facciamo tutti i draghi che abbiamo in mano prima poi quando non ci serve più la sacrifichiamo e ci cerca un drago perché tra l'altro tra le prime 7 trovare un drago è praticamente scontato perché ne abbiamo 4, 8, 12, 16, 18 cioè un terzo del deck sono draghi quindi guardando 7 carte è praticamente impossibile cioè potrà capitare ma è difficilissimo poi abbiamo un'altra carta che ci accelera che è il motivo per cui giochiamo il nero questa qua che crea un treasure token e le creature che per ogni mana pagato da treasure token entrano le creature con un più 1 quindi carta forte questa mazza ha bisogno di fare i pezzi un turno prima quindi questa accelera blocca e sinergica con l'immer storm quindi è da giocare ovviamente se volete potete montare anche una lista monorossa che non è detto che non monterò anch'io in cui poi la mana base sarà più solida però perdere guardate soprattutto Malakir e questa qua sono proprio forti l'immer storm lo vedremo in seguito è forte però è situazionale invece le altre due sono sempre quasi sempre forti shutter school forte carta da giocare allora io non l'ho ancora mai castata però ci sono alcune situazioni soprattutto se attacchiamo con goalspan il turno dopo magari possiamo togliere due pezzi ci cambiano totalmente la partita quindi questo è da testare magari si può anche tagliare a una o non giocarlo però la devo testare ancora un po' e tra l'altro la sinergia è con la chandra perché più carte modali terre noi giochiamo e più out abbiamo con chandra di rivelare carte vediamo chandra ci da un mana fa un danno un play swalke un avversario col più uno con il più uno esila una carta dalla cima se è rossa la possiamo castare quindi solo castare quindi solo spell però queste qua vengono considerate castabili quindi è molto molto forte ovviamente non possiamo giocare la parte terra meno 7 esiliamo le prime 5 vabbè ogni spell rossa che giochiamo in questo turno cioè abbiamo un emblema per ogni spell rossa che castiamo in base al costo facciamo x danni dove vogliamo la finisce l'abbiamo vinto tendenzialmente poi abbiamo appunto l'immerse run 3-3 volare a costo 4 quando diventa tappato esiliamo una carta da un cimitero e gli mettiamo 1-1-1 sacrifichiamo un'altra creatura lo tappiamo ed è inistruttibile carta forte se gli altri non ci stanno mettendo troppa pressione altrimenti dobbiamo comunque saccare un pezzo tapparlo cioè fa fatica un po' ad attaccare ho visto è da giocare si c'è l'alternativa al moon veiler agent se giocavo mono monorosso però il moon veiler agent in un monorosso sinceramente non viene sfruttato bene bevo un po' di te così la gola e un'altra carta che può essere giocabile è l'alternativa e quella ci sto pensando perché quella ci tiene il mana rosso in pool e quindi è una figata perché poi lui quando muore il tyrant fa ex danni on target in base al mana rosso che paghiamo questo mazzo comunque va al top deck magari ha i deturni in quei del mana in più e quindi è forte poi abbiamo il ghostpan fortissimo flying in gaste 4-4 costo 5 e quando attacca creiamo un treasure token i treasure token ci danno doppio mana fortissima carta non c'è dubbio poi inferno ecco questa la gioco 2x incounterabile questo non è da sottovalutare flying in gaste quindi volare rapidità 6-6 e con uno si si pompa davanti ovviamente poi 6 sono 20 di power fa 20 danni to any target ma quello è una cosa di lore non succederà è fortissimo tra l'altro con the malachie rebeard noi lo facciamo l'avversario ce lo spacca noi lo rimettiamo in campo quindi è fortissimo e bom veramente forte ci manca un drago veramente l'aggiunta veramente fortissima di alchemy 4-4 costo 4 volare quando entra in gioco una terra che non controlliamo perde tutte le abilità tranne quelle di mana e ha alice e l'upkeep due danni altrimenti la sacrifica fortissima fa una race assurda se ne facciamo due in curva è veramente oppressivo da paura perché lui è grosso e volare è volante e i danni che ci dobbiamo beccare per tenerci le terre sono troppi sono veramente troppi quindi fortissima allora ho fatto 7-1 con questo deck mi è piaciuto un sacco i cambiamenti che si possono fare ve li ho anche detti lo giocherò in rosso-nero per adesso non andrei a cambiarlo non giocherò in 4-Chandra per ora ma 3 perché in alcuni momenti soprattutto averne due in mano non è bellissimo quindi preferisco averne uno i cambiamenti che si potrebbero fare ve li ho detti e allora i matchup contro agro se vedete le removal le abbiamo perché comunque abbiamo 4 di questi poi questa non la conterei perché un po' vabbè 4-6 10-11-13 abbiamo 13 carte che comunque vanno a fare removal in più le nostre creature sono grosse quindi se non riusciamo a fare removal creatura grossa per l'avversario è sempre un po' un casino quindi contro agro non siamo messi così male contro midrange ce la giochiamo tranquillamente contro control anche avendo le Chandra perché le Chandra spostano veramente tanto perché comunque sono fastidiosi è vero che lui ce le può bounceare però in più contro contro abbiamo inferno che è un inferno è letteralmente un inferno ma l'Akir contro controllo è importantissima carta che ti cambia proprio il matchup perché lui fa la bratta e noi rimettiamo in campo una creatura fortissimo anche il town e anche l'immerstrum anche se è un po' lento e non è detto che abbiamo la creatura da sacrificare quindi un po' così e contro combo boh combo per adesso non ne ho visti non ho beccati i combo veri combo quindi non so dirvi allora siamo giunti alla conclusione di questa deck tech speriamo che vi sia piaciuta lasciate un like commentate iscrivetevi al canale e ci trovate su twitch telegram ovunque veramente ormai ovunque abbiamo una bella community sana venite a trovarci da tutte le parti link in descrizione ciao 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 ciao